In Pasi Pizza l'industria è piena, ci sono 6 o 7 industrie che producono milioni di pezzi al giorno ma noi non siamo in quella categoria, non siamo un'industria noi facciamo un prodotto comunque artigianale di altissima qualità forniamo alberghi, catene di alberghi ma non perché ci sostituiamo allo chef alcuni chef di alberghi molto importanti ci fanno i complimenti perché quando non ci sono loro che fanno gli impasti perché comunque perché loro panificano, i chef stellati sono dicono guarda Antonio io vi faccio i complimenti perché noi di notte non possiamo stare in cucina abbiamo il servizio notturno e quando un cliente nel nostro albergo che è 6 stelle lusso ci chiede qualcosa da mangiare diciamo guarda abbiamo disponibile la pizza e non facciamo brutta figura facciamo una bellissima figura come se l'ha fatta uno chef stellato e stiamo parlando delle nostre vasi quindi abbiamo anche delle soddisfazioni in questo caso magari non usano cento pezzi al giorno, mille pezzi al giorno ne useranno anche dieci ma per noi comunque è un traguardo fornire persone così di livello che ci fanno anche i complimenti ma non per il business di se stesso ma per la soddisfazione anche di avere questo prodotto ma non per la soddisfazione anche ma non per la soddisfazione anche di avere questo prodotto